Ciao a tutti da Dario, anche quest'anno siamo qui al Top Auto, andiamo a vedere tutti i prodotti distribuiti da Audiogam, vediamo adesso alcune novità del marco giapponese Deon. Grazie a tutti. Il D.V. presenta tutti i prodotti in invidia, a partire dallo sampling, il più famoso della casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti